e ciao ragazzi sono firebat per vedere questo nuovissimo video di magic planet si è un nuovo gioco mi dice di tappare subito ok tappiamo oh mio dio con che faccia me lo sto dicendo ok in questo gioco dovremmo fare volare gli aeree molto bello molto tryhard allora con vento perfetto ok uniamoli ma che figato io sto gioco l'avevo giocato camera quando ero piccolo e però hanno aggiornato che prima non era per niente così cioè molto più è più figo quello di prima vi devo dire la verità e però è aggiornato quindi le roba aggiornata ci piace già il primo ah ma quanto è bello questo andiamo mettiti perfetto ma scusate ma ho 19.000 seriamente ma seriamente ho 19.000 subito così livello 2 pensavo livello 3 instant proprio ok vediamo siamo diventati militari ma guardate se vabbè non ti capisco amico non ti capisco amico no turbo ah no ah ma diceva di guardare un video però non l'ho visto ok meno male allora facciamo così allora sul gioco è molto allora è bello però è più da off camera cioè vi farma vi farma soldi anche se non giocate infatti io da piccolo ci giocavo raga cioè facevo robe incredibili cioè appena mi svegliavo la mattina e se mi svegliavo e vabbè scherzo ovviamente e trovavo tipo un milione di soldi facciamo subito un altro aereo così vediamo questo figo fechissimo questo cos'è 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 questo robbo ma io ho 6 gemma apriamocelo ma cos'è non mi è dato niente dai ma che scamo ma che scamo ma che scamo Mr. Box ma no ma io non volevo pubblicità ma dai ma devo aspettare 20 minuti sì vabbè 20 minuti 20 secondi noi parliamo come state a casa non voglio continuare maiale non premete mai le messe di box se no vi tocca vedere 28 secondi di video speriamo che me la danno che sto gioco mi sembra un po' scamino cioè mi piace molto di più la versione vecchia se vi devo dire la verità che poi io ah no la cosa chiusa vabbè lasciamo stare la connessione chiusa ok così 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 allora è molto strategico questo gioco ah no devo fare più ma ah capito così ok uniamo questi facciamo così così già livello 4 easy così così e ora altro aereo aereo va bene lasciamo stare il mio italiano super mega pessimo ok non ci tengo non ci tengo a vedere il video no non ci tengo a ridere meno i due pulsanti vicino ai video così lo premo però non lo premerò mai cosa sta roba ah no non non ne voglio vedere video oh lo mettiti qua andiamo aereo come così così ragazzi arriviamo a livello 10 cioè vabbè dopo passare lo 10 allora facciamo così così ok fermatemi i piccoli angeli che posso aereo però vabbè dai così così e altro aereo uh nero questo ma cos'è extraterrestre no 59 centesimi ma io sono povero allora ok allora arrivato a questo punto siamo lentissimi eh già cioè non non possiamo proseguire cioè possiamo proseguire ma tra un botto ok no peccato volevo unire le due situazioni andate più veloci mettete il suo turbo mi metto il raggio in eh vabbè non parliamo eh ho capito che devo spendere soldi però già non eh è noioso già allora è bello ripeto è bello eh se è tipo non giocate però noioso a questo punto è molto noioso scusate mi sa io ho fatto questa roba però cioè è bello eh ripeto è bello però un po' noioso ok come così vedete che troppo ok altri 9000 sì vabbè un prossimo aereo cos'è lo shop ah ma se io ho spento così ah mi ha dato un aereo perché me l'ha dato tu ah così ho aumentato la mia velocità non so che è però vabbè allora così 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 uh altro aereo bianco ma che figo è della juventus è della juventus forse a juve uh 24000 buono vediamo l'altro ok arriviamo a livello 6 perciò perché ripeto scusatemi però è un po' noioso è bello però è noioso ok altro aereo è molto cioè capito no sempre lo stesso niente ragazzi ragazzi al tempo che arriviamo a livello 10 buonanotte scusatemi ma sto video è molto corto e niente ci vediamo in un prossimo video cioè perché non posso fare più niente vabbè ci vediamo in un prossimo episodio e vi iscrivetevi al canale lasciate un bel like e niente ci vediamo in un prossimo episodio ciao ciao